Oggi c'è un'assemblea dove andrà l'assessore Palma per il Comune di Napoli e la dottoressa Miele per la città metropolitana. Noi con la nomina all'epoca di Giannola, che non era certo una persona del sindaco, scegliemmo una figura che pensavamo di alto profilo, un garante, oggi in particolare facendo seguito a tante cose accadute in questi giorni con il comunicato stampa della Regione Campania, forse si comprendono tante cose. Ma questa è un'altra storia, perché a breve ce ne sarà un'altra, perché completata la manifestazione di interesse noi sostituiremo il Presidente e il componente di missionario Adriana Pollice. Lo faremo in un'ottia di rilancio, di trasparenza e di forte cambio. Sorprende che la Regione dica che il Comune unilateralmente vuole scegliere il Presidente non è un atto di forza del Comune, è semplicemente quello che prevede lo Statuto, cioè che il Presidente del Teatro Stabile lo indica il Comune di Napoli. E noi che potremmo nominare immediatamente il Presidente abbiamo deciso di fare una manifestazione di interesse, vedremo tra qualche giorno scade quante domande saranno state presentate e alla luce di questo cercheremo di fare la scelta migliore. Quindi basta con queste prove muscolari sulla cultura da parte di qualcuno che pensa di non perseguire interessi collettivi e pubblici e devo dire basta anche con questa pagina poco dignitosa del Presidente Giannola. Quindi noi oggi questo diremo, che stiamo solo in una fase di prorogazio in qualche modo e di ordinaria amministrazione e che non accettiamo che qualcuno persegua interessi altri sul teatro stabile che non siano quelli di attendere una notizia straordinaria su cui tanti abbiamo lavorato, che è quello del Teatro Nazionale per il Teatro Stabile.